Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed e se desideri contenuti esclusivi passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Ragazzi, questa notte è uscito un nuovo trailer su Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna che a mio avviso non è solo il miglior trailer di questi due giochi ma probabilmente il miglior trailer a tema Pokémon che io abbia mai visto. In questo trailer vengono finalmente fra tante virgolette rivelati quei personaggi della Locandina che abbiamo tutti identificato come un team nemico. Ovviamente noi non possiamo sapere se in questo momento è un team nemico e un video analisi a riguardo arriverà in futuro, in un futuro ovviamente non troppo remoto, sul canale. Vediamo poi la battaglia fotonica fra tante virgolette fra Necrozma e Solgay Lunala. Abbiamo poi questo mondo particolarissimo che potrebbe essere un ultramondo particolare. Abbiamo, rivediamo anzi, Samina, rivediamo Guzman. E ragazzi qua ve lo dico, probabilmente il trailer che abbiamo visto quest'oggi sotto certi aspetti rispecchia la teoria che avevo portato tempo fa riguardo al potere Z di Necrozma. Ovviamente devo ancora analizzare meglio il trailer perché come sapete questi video sono video veloci e a caldo, ma sicuramente in futuro arriveranno video più dettagliati riguardo a vari aspetti dei trailer che abbiamo visto. Vediamo le ultracreature invadere la regione, cosa che avevo detto nella teoria. Sembrano perlomeno invaderla in quanto in questo frame vediamo Uc. Gazzlord, eh Uc. Gazzlord, ciao. Vediamo Gazzlord che atterra letteralmente davanti ad Augusto che rimane impassibile come suo solito. E vediamo anche più volte nel trailer Scurky Tree all'interno di questo mondo. All'interno invece di quello che possiamo chiamare ultramondo abbiamo quella che secondo me è una prima occhiata sembra essere la trasformazione di Necrozma nella sua nuova forma, nella forma lucente. Ragazzi, ovviamente tutto ciò deve essere analizzato meglio ma questo trailer è sicuramente il migliore che si sia mai fatto all'interno dei canali YouTube vari di Nintendo ed è veramente, veramente fantastico, mi parere. Fatemi sapere magari anche voi che cosa ne pensate del trailer qui sotto nei commenti. Abbiamo anche un sacco di... Siccome il trailer è giapponese abbiamo anche un sacco di termini giapponesi che andrebbero tradotti e quindi vanno fatte delle ricerche anche per andare a scoprire più dettagli a riguardo. E nulla, si vede ancora più chiaramente nel trailer la nube che precedeva o comunque che seguiva l'uscita di Necrozma dal portale quando arrivava nel mondo di Alola in sostanza nel mondo dove si svilupperà la trama. E nulla ragazzi, wow, wow, wow. Sono davvero tantissime cose che vanno analizzate tutte. Io spero che il trailer vi sia piaciuto e spero che questo video news vi sia piaciuto. Se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento in descrizione al canale se non siete altri iscritti. Mi raccomando, passate i social per rimanere sempre aggiornati e per ricevere sempre contenuti esclusivi e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Vi ricordo ancora una volta di rimanere sintonizzati sul canale perché a breve usciranno video molto più dettagliati a riguardo. E nulla ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Grazie. 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 Grazie.